Alida Valli, una delle grandi star del cinema italiano, una donna stupenda che ha interpretato grandi film, ha lavorato in America negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale con registi del calibro di Hitchcock. È rimasta famosa in Italia per una grande interpretazione in un film di Visconti, Senso, accanto a Farley Granger. Per un altro film è rimasta famosa che è La prima notte di quiete di Valerio Zurlini in cui interpreta un ruolo drammatico, crudele e tragico. Una piccola chicca per la storia, una lettera autografa di Alida Valli in cui lei si descrive. Sono una mittel europea, credo sempre a tutto, drammatizzo anche l'elenco del telefono, sono convinta di non essere mai brava abbastanza, grave difetto. Tutte le altre attrici sono più brave di me e ho per loro grande simpatia.